Disastri ambientali, mutamenti climatici, inquinamento incontrollato. Si può cambiare un passo alla volta. Anche nelle cose semplici come una ricevuta fiscale, si può trasmettere la propria attenzione alla salute degli operatori e degli inconsapevoli clienti. Per questo l'Ufficio Ricerche della Sabacart, in collaborazione con i maggiori produttori europei di carta, presenta Saba Plus. A tutela della salute, il rotolo totalmente senza bisfenoli. A tutela dell'ambiente, il rotolo certificato FSC, a garanzia del consumatore, garantisce legibilità per 15 anni. Saba Plus, il rotolo di chi fa la scelta per un mondo migliore. Saba Plus.